La centralissima via 20 Settembre Imperia Porto Morizio si è arricchita di una nuova attività commerciale, una cartoleria che va a fare il paio con quella di via De Sonna a Zadoneglia. Sibilla in via 20, il nome del nuovo negozio, un segnale di radicalizzazione sul territorio. In un periodo di dismissioni di attività commerciali, che senso aprire un nuovo negozio? È stata una decisione presa e meditata per lungo tempo, poi visto che tutte le scuole sono state spostate diciamo su Piazza Roma, è stata una scelta quasi obbligata perché ci perdevamo parte delle vendite legate appunto all'attività scolastica. al mattino alle 7 e mezza l'alunno che dimentica il quaderno, dimentica la penna, è importante, pesa alla fine dell'anno quel tipo di vendita lì, per cui la volevamo un pochino riconquistare. Un'attività che ha subito la grave crisi degli ultimi anni oppure vi siete salvati? L'attività ha subito le trasformazioni più che la grande crisi, perché la crisi viene da una variazione sistemica del commercio. Il commercio ormai per determinati prodotti, determinate tipologie passa per l'online. Prima è passato per la grande distribuzione organizzata, la GDO, e ora c'è anche i vari Amazon, Alibaba, eccetera, che ci danno effettivamente molto fastidio, soprattutto sugli zaini, sulle cose un pochino sugli acquisti un po' più importanti. Quanto questo influisce sui vostri bilanci e sulle vostre vendite? Alla fine i nostri bilanci sono stati salvati dal consumo. Io come filosofia di attività ho sempre puntato molto sul consumo. Di conseguenza ho ampliato la gamma, l'offerta, mi sono specializzato sul consumo, quindi il quaderno, piuttosto che la penna, piuttosto che altri prodotti che man mano stiamo inserendo. I classici prodotti della cartoleria di una volta, con le dovute innovazioni, immagino. Ma a proposito di innovazioni, avete anche in mente di, come dire, aprire un'attività didattica? L'idea ormai del negozio multifunzione è diffusa in Italia, abbiamo già visto parecchi esempi. Ci sono attività che introducono i prodotti creando dei workshop per insegnarne l'uso. Ad esempio la calligrafia. Nello scorso anno abbiamo fatto diversi corsi di calligrafia, anche grazie ad esempio all'Istituto d'Arte, abbiamo introdotto l'uso di determinati prodotti che poi sono stati usati da chi si è appassionato a quel tipo di hobby. Tra le iniziative è anche Ricicla Zaino. Di che si tratta? Ricicla Zaino è un'idea che è partita lo scorso anno. Diciamo che non è assolutamente originale, però è stata copiata e perfezionata e adattata a quello che è il discorso della cartoleria. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha uno zaino ancora utilizzabile, normalmente con lo zainetto lì è destinato a finire nella spazzatura, perché alla lunga le mamme si stufano di averlo nell'armadio piuttosto che sotto la scrivania, prendono e buttano via. Noi abbiamo pensato di valorizzarlo, quindi chi da noi acquista uno zaino nuovo può portare questo zaino e ricevere una determinata quantità di buoni acquisti. Buoni acquisti che sono validi per l'acquisto della cancelleria scolastica, 5, 10, 15, 20, fino a 20 euro. Li valorizziamo, per cui è un risparmio per la famiglia sostanzialmente, e poi li doniamo a associazioni. Lo scorso anno li abbiamo donati alla Sacra Famiglia, la parrocchia Sacra Famiglia. Quest'anno li doneremo all'associazione Il Cuore di Martina. Quindi ogni anno un'associazione diversa? Ogni anno scegliamo tra le destinazioni possibili e ogni anno variamo proprio perché abbiamo intenzione di ampliare questo tipo di discorso. Quest'anno sono limitati agli zaini, in un altro anno introdurremo anche altre cose che serviranno e a fare risparmiare la gente, perché noi interveniamo in questa cosa, il nostro budget viene utilizzato per dare buoni acquisti, e poi gli zaini che vengono riutilizzati, quindi facciamo un favore a chi li riceve, ma anche all'ambiente, perché non diventano rifiuti, vengono riutilizzati fino alla fine. Quindi ambiente e sociale. Grazie a tutti.